Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il campione Thomas Cechon, fresco vincitore dell'oro nei 100 metri d'orso alle Olimpiadi, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo Federica Pellegrini. Durante un'intervista al Corriere della Sera, Cechon ha espresso rammarico per il comportamento della campionessa, svelando un lato inaspettato della sua personalità. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei, ha dichiarato Cechon, rivelando un'antipatia che pochi si aspettavano. Il giovane nuotatore ha ammesso di aver ammirato Pellegrini come sportiva, ma ha sottolineato che non c'è stato alcun rapporto personale tra di loro. Dopo queste dichiarazioni è emerso che Cechon si sente svuotato e privo di motivazioni, nonostante il successo ottenuto alle Olimpiadi. Ha confessato di aver vissuto una delusione d'amore che lo ha profondamente colpito, ma che ha trovato conforto in una nuova relazione con una ragazza più matura. Nonostante la fine di questa storia, Cechon si mostra ottimista per il futuro e per le prossime Olimpiadi. Tuttavia ammette che è difficile conciliare la vita da atleta con quella sentimentale. Cerchiamo cose diverse. Lei una famiglia, io ho altre due Olimpiadi davanti, ha concluso il campione. Le sue parole hanno suscitato scalpore e hanno portato alla luce un lato più intimo e vulnerabile di Thomas Cechon, che si appresta a affrontare nuove sfide e a cercare nuove motivazioni per continuare Grazie a tutti.